Un bilancio di 4 anni di attività, io direi 4 più 1 perché quello che abbiamo seminato nel corso di questo periodo poi lo raccoglieremo nel 2018, non mi ricandiderò per scelta, però mi auguro che sia una decisione monbaroccese meditata per evitare che le cose seminate fatte vadano per così dire un attimino alle ortiche, perché intanto abbiamo trovato un comune praticamente prossimo al di Sesto, avevamo conti pignorati per oltre un milione di euro che significava non poter pagare neanche gli stipendi, era una situazione ovviamente che se non avessimo trovato risorse avrebbe consegnato le mani direttamente al prefetto, ovvero un commissario prefettizio e nell'arco dei primi sei mesi abbiamo dovuto correre per cercare appunto di sanare questa situazione, abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto interventi sugli immobili comunali e in particolare sulla scuola elementare media, faremo quest'anno a chiusura dell'anno scolastico interventi anche sulla scuola materna e altri interventi che sono la sistemazione di strade, insomma che più di anni mette avremo grosso modo un mezzo milione di euro di investimenti, ci siamo anche preoccupati di sistemare quello che era per esempio quello che era il nostro patrimonio artistico perché abbiamo dovuto sistemare il palazzo Guidovaldo del Monte con un intervento grazie anche lì all'intervento regionale, abbiamo sistemato il teatro che prima era soltanto un locale diciamo adibito per al massimo per delle tombole paesane, niente di più, adesso è un teatro vero e proprio, la biblioteca comunale, il campanile del Beato Santi, insomma tutta una serie di interventi che effettivamente si hanno impegnato parecchio. Uscirà completamente dalla politica o in qualche modo crederà di contribuire anche dai banchi dell'opposizione o semplicemente come consigliere? No, è una scelta fatta tra l'altro concordemente con mia moglie, oltretutto l'ho sempre detto non sono mai stato un politico di professione, non lo sono oggi, non lo sarò mai, per cui un mandato è più che sufficiente per fare le cose utili e necessarie.